Secondo me queste visite sono necessarie intanto per conoscersi sempre di persona, perché poi la politica è fatta di persona, le istituzioni sono fatte di persone, e vedere coi propri occhi intanto quali sono i patrimoni della nostra regione e capire quali sono le necessità per migliorarli e intercettare quelli che sono i fabbisogni dei comuni e di realtà come il Museo del Paesaggio di Verbania sicuramente è un modo per essere presenti non soltanto come forma, perché non sono soltanto visite di rappresentanza, ma come sostanza, perché poi bisogna dare quelle risposte che ci si aspetta. Una visita molto gradita, quella dell'assessore alla cultura regionale, che ha di fatto sancito l'inizio di una collaborazione che molto probabilmente porterà anche a soddisfazioni non solo locali, ma regionali e anche internazionali. Perché abbiamo valutato la possibilità di mettere in campo dei progetti che hanno una valenza internazionale e quindi questo porterà sicuramente visibilità non solo al Museo, non solo a Verbania, ma anche tutta la regione Piemonte. Le richieste della regione riguarderanno un po' l'intero territorio di Verbania, perché abbiamo anche la Villa San Remigio da meglio definire all'interno della nostra strategia, che deve essere legata sicuramente a tutta la parte culturale che abbiamo a Verbania, che riguarda il museo in primis, ma Villa Giulia, il teatro, il centro eventi multiculturale, come lo chiamiamo noi.